Furto sventato a Nocera Inferiore ieri in località cicalesi dove a mettere in fuga i ladri sono stati i proprietari dell'abitazione. Durante la ritirata i malviventi sono stati intercettati e inseguiti contro mano da una pattuglia della polizia che si trovava lì per caso. Gli agenti dopo aver aperto il fuoco hanno ritrovato l'auto, una BMW color grigio scuro, abbandonata in via Fontana e ancora caccia ai banditi di leguatisi che dalle prime indagini risulterebbero stranieri.